Buonasera sono Urbano della Sanemoreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Vi presento stasera la nuova arrivata nel nostro parco usato. Come potete vedere si tratta di questa bella Golf 5 dell'anno 2007. Unico proprietario, 170.000 km, tutti tagliandati presso la nostra officina Volkswagen. Vi faccio vedere alcuni particolari di questa carrozzeria che è di questo nero metallizzato molto molto bella, brillante. Guardate qui che spettacolo. Anche i fari anteriori sono veramente uno spettacolo. È una macchina che non ha mai dormito fuori, sempre in garage. Particolari degli interni. Vedete la tarpezzeria? Molto bella, pulita. Non ci sono strappi. Il suo climatizzatore automatico. L'autoradio con CD. Ripeto, 170.000 km. Questa vettura è già disponibile presso il nostro punto vendita. Quindi per interessarvi potete telefonare al nostro salone. Ripeto, già disponibile per la visione e la prova su strada. Quindi non mi rimane che dire, vi aspettiamo per le vostre informazioni. Arrivederci, grazie dell'attenzione.